ah allora e mi metto a fare qualcosa io dovrei una cosa ok pauroso allora mi hanno costretto a ridire tutto quello che hanno detto loro allora caso iniziate a dire una allora ragazzi poi mi ha dato il secchio alex non so cosa sto facendo alex ha detto il secchio questo mio e poi allora se devi fare un genatore di cobblestone non farlo cosa non fare i genatori di cobblestone vabbè questa ce l'ha avuto chi se ne sbatte possiamo dirlo? vabbè no non lo diciamo non lo diciamo la mia figura da programmer potrebbe andare in frantumi eh certo a un certo punto oddio no perché ho spaccato questo? non serviva faccio aumento la lunghezza di sta roba caso farà un tutorial per tutti quelli che vogliono fare un generatore di cobblestone ma in maniera giusta soprattutto per Ezio lo faremo ahahah 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 oh sto sto sbagliando dove sto ecco allora ok ho fatto e perchè qua l'ho tolta il secondo ah a cavolo mi sa servo a spada perchè se devo scendere ma se ti sa fatelo che cavolo ci sto parlando tra me ma lo sto facendo troppo te la sto facendo qui perfetto bimbi allora si capta ma facciamo finta che la prima volta che parliamo facciamo ma ragazzi così parliamo che è anche già che giocato e molto io gioco a parte i momenti di cazzeggi gioco a battlefield a volte se ne tre ma io immagino il marzo poi indicato gioco a fifa 98 un'altra parte se non si fanno contato e poi gioco a code 1 a code 1 benissimo di ultima generazione non me lo sarei mai aspettato minecraft che secondo me è il miglior retro game della storia minecraft si no perché minecraft alla grafica di un gioco che sembra per te storico però richiede una ram no abbastanza ram ok e invece vediamo un po' un altro argomento a caso quali console possiedi di usc quali possiede o quali ho posseduto tutto ci fa bene tutto io allora io la playstation 1 ah si ok aspetta non mi ricordo caso il generatore da quanto dovevo farlo da niente fanno lontano fatti un'isola per te e fai il generator ok un'isola in mezzo al mare proprio l'isola del solito si no comunque non so bene perché vuoi fare un generatore di cobblestone anche perché abbiamo un'intera caverna sotto piena di cobblestone quindi non ne vedo l'utilità però se proprio lo vuoi fare fallo lontano e fallo faccio la cascata c'è da fare cascata è uno degli obiettivi yes ok fai la cascata dai fai 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 a me lo dice l'acqua non rischio di mandare tutto a meno che non allaghi la casa quindi ahahah e perchè non l'avesse capito prima vabbè no rimasto che ha fatto esatto prima è successo che chi indovina riceve il calcio in culo regino e galex leggi ricordiamo che sono per i porca troia per i 200 iscritti le ginocchia di labbra per i 200 iscritti ah e allora faremo vedere le unghie non mi metteremo daremo le unghie a chi riuscirà a sapere esatto se volete me le devo tagliare anche io quelle dei piedi però quindi se se siete amanti delle unghie dei piedi ve le spedisco se avete una collezione di unghie di piedi aspetta ma la cascata perchè la stai facendo lì dove la dobbiamo fare dove la dobbiamo fare la cascata forci quella ma fa la carina almeno eh fai carina la cascata si si io sono bello si si ma perchè non la fai ascolta ascolta distruggi lì e falla qua dove c'è la piscina e fai cadere la cascata sopra la piscina e c'è una figata ok silenzio no era perché ci stava pensando poi ha deciso che la mia idea era fantastica ok c'è stato con la città dai ma non mi da i semini secondo me muoio e secondo me ma tanto vuoi che ti dica la mia situazione sono circondato da ragnatele e da mob spawner e non so come tornare a casa non c'è la casa ho anche fanno e facili una tipa cina mappa magari ti puoi perdere in queste grandissime grande che sono più grandi di skyrim sì lo ricordiamo è un mondo intorno a noi ricordiamo che il mondo di minecraft è 20 volte più grande di quello di skyrim è due volte è due volte quello di superman è tre volte quello della terra effettivo proprio il nostro pianeta terra reale è una delle poche cose minecraft che è infinito cioè il mondo di minecraft è una cosa assoluta infinita ci sono poi sbagliato forse avrei dovuto lasciare tutto com'era vabbè ma di terra quante capiamo di terra io adesso ne ho 9 di voi no ma in tot falla ascolta scendi giù prenditi un piccone e picca per la cobblestone e lo fai in cobblestone qua chiudate le porte che sono entrato in creeper e falla ah no pietra vabbè c'è un casino qua prendilo si ma abbiamo solo abbiamo così poca terra eh terra io non ho beba dobbiamo scavarla giù io direi di distruggere questo bel no lascia la montagna la montagna è sacra non si tocca proprio no ci saranno almeno due cose da 64 qua si ma andiamo giù è strapieno fidati lascia la montagna sacra voglio la se esplode qualche creeper se muoio vieni qua giù questo c'è guarda qua sotto Ezio all'inizio qua è strapieno di terra ce n'è quanta ne vuoi vieni giù nella miniera la prima parte è strapieno di terra guarda via quindi se proprio in terra attento a non bucare c'è una pala sopra si si c'è non vuole davanti c'è 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 comunque dicevamo dai visto che la gente si è interessata ai miei piedi parliamo anche dei piedi di caso ahia oh merda perchè è strapieno di zombie ce ne sono 3 ce ne sono mi stanno spingendo nella lava no mi hanno ucciso nooo c'erano 3 zombie non ho visto da dove si sono usciti c'è un mob spawner qua davanti è pieno di mob spawner ah ok perfetto perchè non mi hai fissato cavolo sono sicuro abbastanza è vero sono pro da predire il futuro che cazzo sono però io sono sopravvissuto lo stesso e che cacchio è pieno qua ecco qua ho parlato troppo presto ho parlato troppo presto corre alex corre le frecce corre le frecce cazzo è strapieno brutti bastardi a me serve la mia roba no non mi avrete sembra di essere in left for dead cazzo comunque andate a vedervi i video bastardi che hanno poche visualizzazioni andate lì dai che sono interessanti siamo bravissimi a left soprattutto nel survival proprio siamo i migliori cazzo sono a pugnetti mi stanno uccidendo bastardi con cosa ti sto rispondendo no io sono a pugnetti uccidendo cazzo non a pugnetti a pugnetti ho detto sono cose diverse bastardo ti ammazzo c'ho paura io c'ho paura capito che mi ha fatto perdere un piccone di ferro porca puttana io spero non sia finito nella lava tu non hai idea di cosa sto rischiando non ve lo dico perchè mi picchia perchè cosa stai rischiando cose di diamante no ok sennò ti picchiavo davvero ok ah c'ho perso il la pala cazzo gente cazzo 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 corso la pala non allagare tutto non allagare tutto per favore oh merda un creeper mi è finito davanti ah perchè è così pieno di zombie allora vai Alex vai vai tranquillo menomale che è un gioco per bambini questo Creeper Creeper por Dio corre a merda un altro e mi esplose il creeper si mi esploso sotto i piedi mi esploso sotto i piedi ma non mi ha fatto niente ho trovato l'acqua io ho forse trovato un mob spawner e mi sta uccidendo uno zombie di merda muo di bastardo devo riuscire a salire qua cazzo anzi no forse il giorno io ce ho fame invece mangio no non fammi la madonna la madonna la mamma è un lama non maschio madonna no ma la mamma di coltello è una lama non maschio, ripeto perchè non si capisce anche allora compreso un po' di ferro credo vero merda c'è un buco ormai sono andato sono l'entroterra più recondito che è palle mi sono perso come ti sei perso qualcuno si offende se mi teletrasporto fai tipo da me o da casa io si mi offende io sono a casa io non ve l'ho detto ma mi sono preso tutto il ferro che avevamo e me lo sono portato a presso allora teletrasportati non mi offendo più non mi offendo più fallo teletrasportati basta che non perdi il ferro che cosa orca miseria o etc diciamo c'è una roba contristo Perché abbiamo poca roba Questo è oro, ci serve l'oro? Non lo so Negli obiettivi io non mi ricordo Parlasse d'oro Se ti vuoi fare gli anelli Per farti il figo Gli anelli di... Cazzo sto amore Ma perché la fame mi scende così tanto? Io non ho ancora sceso Ma che cavolo Forse è perché sono in difficoltà pacifico No, il server ha una difficoltà prestabilita Non... E la sua è basta Devo mangiare un po' di pane Pane pa pane No! Dato che io non baro Mi sto facendo strada verso l'area Tu non bari, cagliari Oh, oh, bellissimo Questa era pessima, no Io lo vado fuori Bellissimo Allora, io l'apescare da Allora, io l'apescare da